La situazione dei conti del Comune di Nuoro non può e non deve essere utilizzata come scusa per pasticci politici e giunte minestrone. Occorrono responsabilità e serietà, un'opposizione costruttiva non si presta a fare accordichi e rimane rigorosa e fedele al mandato ricevuto dagli elettori, indicando soluzioni senza fare inciuci. Quanto sottolinea una nota per Luigi Saiu, consigliere comunale di Uniti per Nuoro, la proposta che pure qualcuno avanza di una giunta unitaria che veda dentro tutti non solo non risolverebbe il problema dei conti del Comune, ma sarebbe gravemente lesiva dalla volontà degli elettori, continua l'esponente dell'opposizione. A ciascuno di noi è stato affidato un mandato preciso, al sindaco e alla sua maggioranza, alla responsabilità di governo, a noi di controllo. Qualunque cambiamento di assetto deve assolutamente passare per gli elettori. Se ci sono ipotesi di nuove maggioranze, queste non dovranno essere il risultato di manovre di palazzo, ma di un chiaro mandato dei cittadini. Non si può pensare di sostituire le forze che non fanno più parte della maggioranza, vedi città in comune, sottolinea Saiu, con innesti dall'opposizione. Il sindaco si dimetta e si torni alle elezioni. A quel punto saranno i cittadini a scegliere, senza trascurare il fatto che sul tema dei debiti e le responsabilità dell'amministrazione in carica sono enormi, prosegue Saiu. Per tre anni, proprio dall'opposizione, abbiamo contestato l'efficacia delle scelte portate avanti dalla giunta guidata dal sindaco Andrea Soddu, a cominciare dalla vendita degli immobili, per proseguire con le ingiunzioni nei confronti del Governo nazionale. Provedimenti spot, buoni forse per un po' di pubblicità, ma del tutto inutili sul piano contabile, sono perfino dannosi. La giunta guidata dal sindaco Soddu ha perso tre anni di tempo, illudendo la città che si fosse avviato un percorso di resanamento, che invece non c'è stato. Solo quattro mesi fa ci dicevano che i conti erano in ordine. Siamo passati dai 18 milioni di euro di mutui ancora da pagare per debiti fuori bilancio del 2017 ai 67 milioni di oggi. Ognuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, dovrebbe farlo per primo il sindaco di Nuoro.